Dalle parole ai fatti, così annuncia l'assessore al commercio Giacomo Cuzzi, che spiega il progetto messo in campo dall'amministrazione comunale per dare nuovo slancio al cosiddetto centro commerciale naturale di Pescara. Il quadrilatero dello shopping del centro città avrà a disposizione 50.000 euro per l'avvio di iniziative dedicate al salotto buono. Avremo una prima posta di 50.000 euro per la nascita, la creazione e poi l'attuazione dei programmi che andranno a lanciare il centro commerciale naturale. Faremo degli incontri a partire da oggi con le associazioni di categoria, con le associazioni di commercianti, con i commercianti singoli per avere un programma snello, veloce e rapido affinché questo fatto del centro commerciale naturale presto diventi realtà. Sarà una serie organizzativa che punta a rilanciare la vocazione attrattiva, a far arrivare tanta gente in città e a rilanciare il commercio. Commercianti ed esercenti saranno chiamati personalmente a dare il proprio contributo nell'ideazione e costruzione di iniziative capaci di offrire appetibilità e fermento allo shopping cittadino. Stiamo facendo un calendario in sinergia con le ente manifestazioni, con la camera di commercio, col porto turistico e sicuramente ci saranno tanti appuntamenti anche a vocazione, soprattutto a vocazione commerciale che poi puntano a segnare dei più per la nostra città che significano il rilancio dell'economia.